Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Bentornati sul canale Times Gadget e bentornati in questo nuovo video. Oggi un video abbastanza particolare, è un po' diverso dal solito, non vuole essere una recensione incentrata su qualche cover o qualche accessorio prettamente dedicato agli smartphone, ma vuole essere un video, diciamo, per rispondere anche alle tante vostre domande che mi avete fatto in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, relativo alla mia attrezzatura che utilizzo per girare i video, ma anche alle tante domande che mi avete fatto nel consigliarvi qualche tipo di accessorio o qualche tipo di supporto per smartphone o per fotocamera per iniziare voi a fare video, non solo video come recensioni, ma anche video come vlog. Quindi oggi andremo a vedere un po' tutta l'attrezzatura che utilizzo, che ho utilizzato e quella che anche non utilizzo più di tanto, ma che vi posso consigliare anche se volete iniziare a fare questi tipi di video, i vlog o le recensioni di qualche prodotto. Oggi vi faccio vedere un po' qualche tipo di accessorio, qualche gadget con cui mi sono trovato davvero molto bene. Prima di iniziare però questa recensione, ragazzi, invito sempre a lasciare un bel like qui sul canale, mi raccomando, iscrivervi qui sul canale di YouTube, accendete la campanina e trovate delle notifiche qui sotto, il pulsantino rosso, per sapere sempre quando sono stati caricati nuovi video. E poi non scordatevi di iscrivervi a tutti gli altri canali social, in primis al gruppo di Instagram e chiaramente anche al gruppo di Telegram. E detto anche questo però ragazzi, adesso partiamo subito ad andare a vedere i primi accessori. Allora, prima di tutto partiamo dall'attrezzatura che utilizzo attualmente. Negli ultimi mesi, dagli ultimi mesi a questa parte, sto utilizzando come camera principale, dato che non ho più la Canon, la Sony Alpha 7 III, una grande grande camera che ho abbinato, come molti di voi sapranno, chi ha visto il primo video, la prima recensione che ho fatto non appena mi è arrivata la camera, lo utilizzo con un 16-35mm f4, quindi 4 fisso da 16 a 35mm, che è molto molto utile, che è con quello con cui sto riprendendo adesso e che poi tutto è l'obiettivo con cui alla fine lo utilizzo per la maggior parte delle recensioni che vedete sul canale. È l'obiettivo, diciamo, principale, perché un grandangolo ve lo consiglio assolutamente, qualsiasi camera voi prendiate o scegliate, Canon, Sony, Fuji, quello che volete, ma vi consiglio se volete fare delle recensioni sul tavolo, ma anche dei vlog, quindi per inquadrarvi voi e avete solamente la lunghezza dell'estensione del vostro braccio o al massimo con qualche supporto o qualche tripod, però vi consiglio sempre un grandangolare, perlomeno sapete sempre che siede all'interno di quello che state riprendendo, ma soprattutto poi avete più campo e avete anche maggiori possibilità di riprendere anche sul tavolo quello che riprendete o che volete recensire, perché non sempre avete una grande distanza tra la camera e il tavolo su cui vi poggiate o su cui fate le recensioni, quindi per questo motivo vi consiglio sempre un grandangolo. Oltre a questo ho abbinato e porto sempre in abbinato un altro obiettivo e con questa Sony ho scelto il 24-105, che è questo qui, che devo dire è un tuttofare. Allora, nella maggior parte dei casi, questo qui ci giro alcune carellate, alcuni video quando mi trovo a una certa distanza, non lo utilizzo per fare la maggior parte delle recensioni o per i vlog, perché prima di tutto è pesante e poi il 24 è già un po' troppo stretto come angolo. Questo qui però lo utilizzo per fare altri tipi di video, altre carellate che faccio fuori all'esterno, altri video che faccio anche per lavoro, oppure lo utilizzo nella maggior parte dei casi anche per le foto che vedete sui vari canali social e anche per le foto che vedete nelle varie copertine di YouTube. Utilizzo sempre questo qui perché ha una certa, diciamo, una maggiore profondità rispetto a 35 e già quando lo mettete a 50-70 mm vi escono delle belle foto, vi escono anche dei bei video con un bello sfogato di fondo naturale, morbido, che chiaramente col 16-35 non potete avere. Però è chiaro che è un obiettivo abbastanza impegnerivo sia per il costo ma anche per il peso e anche per le dimensioni. Comunque questo qui ve lo posso consigliare se volete un obiettivo tuttofare. Questo qui è un 24-105, f4 anch'esso fisso, quindi abbastanza luminoso a 104 ed è ottimo per chi vuole fare le foto, perché lo potrete portare in giro è un po' un tuttofare, potete fare dalle foto dal grand'angolo al 24 come paesaggio fino a spingervi fino a 105. Invece come supporti? Allora attualmente utilizzo un Manfrotto che è la serie X055, poi comunque vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione a tutti gli accessori vi faccio vedere, a tutti i prodotti che utilizzo. Questo qui è un cavalletto che sto utilizzando nell'ultimo anno a questa parte e vi posso dire che è un cavalletto fenomenale, secondo me è uno dei migliori cavalletti sulla tua fascia di prezzo per questi tipi di utilizzi. È un cavalletto molto solido, grande ma è anche pesante, quindi è un cavalletto che vi consiglio se volete un tripod, un treppiedi da utilizzare a casa a studio fisso. Non è uno di quei treppiedi che potete smontare, ripiegare e mettere nella borsa oppure portarvi in fiera o a qualche vento. È un cavalletto molto impendito, anche molto pesante, unito poi alla testa che è la 502 della Manfrotto, che è abbastanza anche se impegnativa, però è fantastica ragazzi. Ecco anche la testa mi raccomando, datevi una certa importanza anche alla testa, perché deve avere dei movimenti fluidi, deve avere la testa fluida su due o tre vie, in modo tale che potete fare le cosiddette carellate, quindi i palm o i tilt, quelle che vedete anche spesso nei miei video, quindi le carellate da testa verso sinistra o viceversa o dall'alto verso il basso oppure dal basso verso l'alto, per fare le varie prese e le varie coperture di alcuni prodotti. Ecco, quelle lì sono molto importanti da poter fare e li dovete fare con un cavalletto con la testa fluida, che quindi sia fluido e sia anche costante la rotazione e anche l'inclinazione verso l'alto, verso il basso e che non abbia quegli scatti improvvisi il cavalletto e lì potete solo fare affidamento su un cavalletto con delle frizioni, che è la cosa essenziale e secondo me è una delle cose più comode. Oltretutto questo tipo di cavalletto ve lo posso consigliare perché ha anche la sezione AT. Ciò che cosa vuol dire è che il cavalletto può essere girato, anzi la testa centrale, l'asse centrale, può essere girato a T e quindi poter rimettere la camera in questa maniera, quindi perpendicolare al piano e che poi tutto è il tipo di utilizzo che ne faccio io, che vedete sempre le recensioni. Quando tutte le recensioni che vedete dei prodotti utilizzo quel tipo di settaggio, quel tipo di set, in modo tale che io ho l'asta lunga parallela al piano e poi ho la camera perpendicolare. In questa maniera non avete mai una ripresa in diagonale, ma bensì dritta e perpendicolare al piano e quella lì è una cosa davvero molto importante. Altri tipi invece di cavalletti che vi posso consigliare che ho utilizzato in precedenza ho questo qui che è il Manfrotto B-Free Live, il Twist, che è molto comodo, devo dire. È stato un cavalletto che mi ha accompagnato per tanto tempo, mi ha accompagnato in fiera, mi ha accompagnato anche in tante diverse recensioni, a tanti eventi. Ce l'ho ancora, ma vi posso dire che da una parte sono rimasto un pochino deluso perché nel giro di un anno e mezzo, sì ok, l'ho sfruttato tantissimo, ma la testa fluida, questa qui sopra, che diciamo è in parte fluida, ma non ha nessun tipo di frizione. Voi avete solamente due, queste due manovelle qui, avete questa e questa qui da questa parte, che vi servono per sbloccare il PAM, quindi la rotazione orizzontale e quella verticale, che è questa qui, ma non potete poi avere una frizione che vi permette di regolare, diciamo, più o meno la rotazione, quindi con maggiore forza o deve essere anche più libera. Quindi la frizione è sempre molto importante. Ecco, questo qui non ce l'ha purtroppo una buona frizione e quindi con il tempo si è andato a rovinare, anzi mi si è rovinato anche un pochino troppo presto e quindi non era più fattibile fare questi tipi di carellate. Trovavo molta difficoltà, ci mettevo molto tempo. Però allo stesso tempo è un cavalletto che vi posso consigliare per quale motivo? Perché guardate, si estende così e la sua forza è che voi, con un attimo, piegate le gambe, lo piegate in questo modo, con le gambe riverte verso l'alto e il gioco è fatto. Ed è molto molto comodo, perché io questo qui infatti l'ho potuto portare a un lato dello zaino, se avete i disegni fotografici che hanno le loro tasche dai lati per i tripod, e con questo qui riesciate ad entrare. Certo, lo dovete legare bene alla parte alta, io per esempio infatti l'ho incassato nel Wounded e anche nel Peak Design, per chi di voi mi conosce, se quel canale sa benissimo che io sono un fan di quegli zaini, e lì sono riuscito a portarlo. Anche se è pesantino, però comunque è sicuramente più fattibile portare questo, che è un cavalletto come il manfrotto che sto utilizzando ora, che già da chiuso è circa più di 60 cm, quindi immaginate poi il peso e diventa impossibile. Questo qui invece è un buon compagno, tutto poi ha la capacità e anche la possibilità di estendersi, semplicemente svitando questi attacchi qui. Quindi non abbiamo degli attacchi meccanici che dobbiamo andare con la clip ad allargare o a chiudere, ma abbiamo solamente queste rotelle qui in gomma, fatte molto bene peraltro tutto, che devo dire hanno fatto la differenza perché è molto veloce da chiudere e da aprire. Quindi ve lo posso consigliare anche perché il prezzo è anche abbastanza contenuto, ci sono tante diverse versioni adesso di questo B-Free Live, c'è anche in versione Camo che è molto simpatica e vi permette poi di fare tanti altri tipi di foto, anche perché si può mettere anche quasi parallelo a terreno, quindi per alcuni tipi di foto, se scattate foto in montagna e volete anche un cavalletto abbastanza estensibile, flessibile, allora questo qui ve lo posso consigliare. Per i video un pochino di meno, forse se da l'inizio va bene perché spendete poco, però dopo vi consiglio di passare a un qualche tipo di supporto di cavalletto con la testa fluida. Invece poi, che cosa abbiamo? Ah, l'ultima cosa, con la Sony A7 III utilizzo anche un monitor esterno, un monitor, utilizzo un Andesim 4K, per quale motivo? Perché purtroppo la Sony ha l'unico grande difetto di non avere un display che flippa verso l'esterno, quindi che si può ribaltare e quindi che posso vedere quello che sto riprendendo. E quindi sono stato costretto a prendermi un monitor esterno da attaccare poi sopra la fotocamera, sotto, da un lato, dove volete, voi lo potete scegliere voi, però ecco, con queste camere vi consiglio anche un monitor esterno. E invece per quanto riguarda i microfoni, che è una cosa che mi chiedete spesso, ho fatto caso, Allora, per quanto riguarda i microfoni, potete utilizzare o il lavalier, che è questo qui, che ho io, il classico lavalier piccolino, e lo potete andare a collegare direttamente alla camera o a un microfono esterno, oppure potete utilizzare, infatti qui volevo arrivare, potete utilizzare anche questi qui, i Rode Wireless Go, che sono dei dispositivi, dei microfoni davvero eccezionali. Io da quando ormai li ho comprati utilizzo solamente questi, e sono comodi perché in pratica voi lo potete utilizzare come sto facendo io, attaccati il lavalier piccolo, con, chiaramente, con l'attacco questo qui, che serve un atto connettore, che serve per far uscire, per uscire l'attacco con il jack classico da camera, perché il lavalier di questi modelli, anche i Rode, escono direttamente con il jack da tre, da tre tacchette, quindi adatti per il smartphone, e quindi poi dovete comprare un adattatore. Però è comodo, perché in questo caso voi non avete un filo collegato direttamente con la camera, e con questi Rode avete direttamente il collegamento wireless, quindi questo può essere anche come microfono può fungere, perché poi l'altra basetta, l'altro attacco sta collegato col jack alla camera, lì però avete anche il display che vi fa vedere anche la connessione, il livello di batteria vi fa vedere tutto, sono molto molto stabili, e li potete utilizzare sia come li sto utilizzando io, quindi con il lavaliere attaccato, e che è anche molto comodo perché comunque è piccolino qui il lavaliere, si può mettere in tasca questa parte, oppure potete anche semplicemente utilizzare questo qui, potete utilizzare questo come microfono, perché qui dietro ha la sua clipetta da poter attaccare qui al colletto. Io spesso non lo posso utilizzare perché seppur abbiamo anche il gatto morto che si può aggiungere qui sopra, lo trovate nella sua confezione, o tutto avete anche questa sacchettina che è davvero fatta benissimo ragazzi. Questo Rode Wireless Go ve lo posso assolutamente consigliare, però l'unica cosa è che vi consiglio di utilizzare un microfono, un lavaliere esterno, perché quando attaccate questa pinza qui al colletto vi si gira, dato che ha un certo peso questo quadratino, non è proprio leggerissimo, quindi se avete le magliette sottili, la camicia, beh non è proprio utilissimo o comodissimo perché vi si tende a girare o vi si tende ad aprire, quindi ecco perché lo utilizzo con il lavaliere e me lo metto in tasca. Altri voi microfoni invece, se volete avere qualcosa di direzionale, di a basso costo, soprattutto anche portatile, soprattutto, per non avere i microfoni a fucile a cannone molto grandi, che occupano spazio, ovviamente delle volte sono anche molto impegnativi, allora vi consiglio questo qui, è classico il micro Rode, non il lavaliere, il micro Rode è direzionale, questo penso che sia uno dei microfoni più utilizzati da chi fa video, da youtuber o da chiunque come creator, guardate qui, è piccolo piccolo, qui avete l'attacco jack, avete il supporto che si infila così, qui avete la piccola slitta da poter poi inserire sopra a una fotocamera, e poi avete il gatto morto che lo potete, lo dovreste utilizzare quando fate video all'aperto, oppure c'è vento, ci sono qualche rumore, questo qui serve per non far passare il vento, e non farlo sentire durante le registrazioni. Unito poi a questi, allora, a parte i supporti classici, cioè i supporti, a parte i microfoni classici, poi, che volete prendere anche a asta, quindi che scendono dall'atto per non avere anche questi tipi di microfoni, o a parte anche gli atti lavaliere, che costano anche di meno, vi lascio qualche link qui sotto, perché questo qui, della Rode, lavaliere, costa intorno ai 60€, anche il micro Rode, questo qui, costa 60€, e invece il prezzo del wireless go, arriviamo sui 380 e 220, a seconda po' dell'offerta e della promozione. Poi, passando oltre, altri supporti, invece, che vi posso consigliare per girare video, in mobilità, ma anche a casa, sono i vari treppiedi, e come treppiedi ho sempre utilizzato questo qui della Joby, io lo utilizzo davvero da tantissimi anni, peccato solamente che non lo vendono più, questa qui è la versione in alluminio, che è davvero ben fatta, molto molto bella, si tratta di un treppiedi davvero molto solido, validissimo, con tutte le sfere in alluminio, che vi permettono di girare come volete, non si vanno mai a rovinare, ad apruginire, non si vanno mai a bloccare, avete la possibilità di girare la testa e di sbloccarla qui, in questa maniera, così, oppure avete la possibilità di girare, di sbloccare la sfera, questa qui, e la potete ruotare come volete. Chiaramente poi, qui dentro, c'è la piastra per attaccare sotto alla macchina. Ma questo qui è un supporto che, anche se non volete farvi, non volete comprarvi questo qui grande, che potrebbe essere anche un po' più impegnativo, ma vi consiglio di comprarlo anche quello più piccolo, perché è un supporto eccezionale, lo potete girare come volete, lo potete attaccare ai pali della luce, se volete prendere, non so, qualche cosa, vi volete prenderlo a volo e non sapete dove poggiarlo, lo potete poggiare anche su moretti, sui davanzali, ovunque lo potete aggrappare. Quindi questo qui è un supporto validissimo. Questo però è l'unico, diciamo, piccolo limite, che ognuno di questi tripod, specialmente anche in base alla versione che prendete alla grandezza, leggete bene, reggono fino a un totto di peso. Quindi se avete una camera abbastanza impegnativa, grande, non avete una mirrorless, oppure avete un obiettivo, un 70-200, anche un 24-105 unito, non a una mirrorless leggera o compatta come la 7.3, o qualcosa di più grande, ecco, calcolate bene il peso, perché altrimenti la testa non riesce a reggere. Però questo qui per tutto il resto è davvero molto comodo, anche voi lo potete utilizzare così, e potete per benissimo utilizzare la camera, parlarci davanti, girarla, attaccarla dove volete. Quindi questo qui è uno di quei supporti che vi consiglio assolutamente, perché mi sono trovato sempre molto molto bene. Invece adesso, passando ai supporti per smartphone, allora, prima di tutto come smartphone, attualmente, molti me l'hanno chiesto, cosa utilizzo? Utilizzo come principali questi due, abbiamo l'iPhone 11 Pro Max da una parte, e l'S20 Ultra dall'altra. Non mi dite qual è il mio preferito, perché quest'anno, nel 2020, devo dire che in questo mercato abbastanza piatto, li preferisco entrambi adesso. Vuoi l'iPhone per qualche cosa? Vuoi l'S20 Ultra per le sue funzioni, e anche per la sua flessibilità nella camera? Devo dire che sono i due smartphone che prediligo di più e che utilizzo oggi maggiormente rispetto a tanti altri che poi ruotano velocemente. E poi ho anche il Pixel, che mi continua a piacere come telefono per alcuni tipi di foto, per esempio alcuni scatti col bokeh, oppure anche alcune notturne, alcune foto di notte per il cielo stellato, che sono comunque interessanti. Non è uno smartphone, diciamo, completissimo, a 360 gradi, sia per video che per foto. Diciamo che è uno smartphone per completare quello che già avete o anche di supporto, va. Però non mi piace tanto come smartphone da utilizzare come primo telefono, perché non ha la grande angolare e non ha la stessa qualità video dell'iPhone 11 Pro Max oppure dell'S20 Ultra. Quali sono i supporti che vi dicevo che potete utilizzare invece per gli smartphone, per poter girare video o per fare foto? Allora, i supporti ce ne sono diversi. In primis è questo qui, il cavalletto, il mini treppiedi, il mini manfrottino, quello che ormai tutti conoscono e anche io ancora oggi ritengo uno dei più validi. Perché è piccolo, è comodo anche da impugnare in questa maniera, è comodo per portare delle mirrorless, delle compatte, anche dei telefoni. Unito a questo, chiaramente, dovete abbinare delle teste. Scusami, dei supporti, non delle teste. Abito a parlare delle fotocamere. Come supporti, io non è che utilizzo tantissimi supporti. Io ancora, per esempio, utilizzo questo dell'Atarion, ma ce ne sono anche di altri, anche forse migliori, ma mi trovo bene con questo perché in pratica ha la slitta sopra, che è una cosa utilissima e abbiamo la vite qui dietro che va a stringersi in questa maniera per bloccare. Oppure utilizzo questi qui, ultimamente, che sono fra i più comodi perché abbiamo sia la possibilità di svitare e quindi di mettere in verticale il telefono che vi potrebbe essere comodo per le storie su Instagram o qualche video in verticale, oppure di rimetterlo in orizzontale. Questo qui è chiaro che dovete avvitarli in questa maniera al vostro tre piedi e quindi il gioco è fatto. Voi lo potete portare sia così, poi con il manfrottino qui avete il tasso che potete poi girare e inclinare come volete e quindi potete utilizzarlo sia in questa maniera oppure chiaramente appoggiato al tavolo e potete riprendere e scattare quello che volete. Quindi questo qui, secondo me, è uno dei supporti più validi ma soprattutto anche fra i meno costosi, quelli più a portata di mano e anche tra i più facili da utilizzare, anche quelli diciamo anche più flessibili nel portare nello zaino perché lo potete smontare è piccolo, è compatto e non vi crea fastidio. Se invece volete, questo qui è un piccolo consiglio, se volete fare invece dei video e vi volete dedicare, non so, a fare dei video particolari da delle recensioni sui telefoni e vi chiedete come fanno molti a riprendere con te i telefoni insieme, ecco, esiste questo supporto qui. Ve lo dico perché alcuni me l'hanno richiesto. È una semplicissima staffa che avete due attacchi a vite qui perché così a voi avete due o tre supporti attaccati di questi qui qui sopra e potete mettere in fila poi gli smartphone. In questa maniera, con il supporto chiaramente sotto quel cavalletto, voi potete mettere in fila tre smartphone e quindi potete fare, diciamo, i test, i confronti fotografici o anche i video fra due o tre dispositivi contemporaneamente. Per quanto riguarda poi i supporti a livello di smartphone, che cosa abbiamo? Abbiamo anche questo. Questo qui è il DJI Osmo, l'Osmo Mobile il 3, che secondo me è quello più performante ma anche il migliore per il rapporto pari da prezzo. Vedetevi la recensione che ho fatto ha dei piccoli nei, ha delle piccole lagune e alcuni limiti, però comunque ha un prezzo di 100 euro all'incirca, 120, adesso lo possiamo anche trovare intorno ai 125 con il kit, quindi avete anche il case con il treppiedi sotto. Devo dire, è un ottimo, ottimo strumento. È veramente molto flessibile, non vi permettete di attaccare un microfono facilmente al telefono perché non avete nessun tipo di attacco o anche di supporto qui dai lati, quindi dovete semplicemente utilizzare il gimbal e il microfono e registrare l'audio con il microfono del telefono. Però comunque è un supporto che potendosi chiudere in questo modo, ve lo faccio anche rivedere, potendosi chiudere in questo modo, questa qui la svitiamo, è così piccolo, in pratica voi vi portate dietro solamente questo qui e chiaramente con il loro case. L'unico pecca è che non abbiamo una taschina per il treppiedi, secondo me è la cavallata più grande che ha fatto quest'anno la DJ con questo prodotto, però è un prodotto validissimo che è flessibile e comodo a utilizzare e vi permette di fare delle riprese abbastanza stabili, di muovervi se volete riprendere qualcun altro o di seguirlo anche con una mezza corsa, non vi dico proprio in corsa, però tra la stabilizzazione del gimbal e la stabilizzazione, se avete un terminale, un smartphone stabilizzato, secondo me potete fare dei buoni video, vi potrebbero uscire davvero dei buoni risultati. Poi per quanto riguarda l'ultimo, che ce l'ho qui a fianco e non ve ne ho parlato prima, e per quanto riguarda invece i gimbal per fotocamere, allora io non sono un grande fan dei gimbal per fotocamere, non che non mi piacciono, ma per il mio tipo di lavoro non è che li utilizzo spesso, però vi posso consigliare o il DJI, il Ronin SC, che è abbastanza meno costoso, diciamo più a quella portata di tutti, seppur comunque parliamo di 350, 400 euro di prezzo, ma è molto buona e soprattutto è utile perché si sincronizza con il telefono, oppure vi posso consigliare questo qui, questo qui è il Feiyu Tech A4000, per chi di voi è interessato a vederlo vi lascio la recensione qui sotto perché l'ho fatta già sul canale già qualche mese fa e vi posso dire che intorno ai 300 euro è anche uno dei migliori, anche perché la K4000, che è questo modello, regge fino a 4 kg di fotocamera, quindi potrebbe essere utile, però vi consiglio di acquistarlo solamente se avete la necessità di un gimbal. Non vi pensate che potete fare dei vlog con il gimbal perché tra il gimbal il peso e il peso della fotocamera vi ammazzate il braccio e vi rompete una spalla e non ce la fate a tenere più di tanto il gimbal con una mano, quindi avete bisogno di un supporto sotto o comunque di due mani e quindi non è pratico per quei tipi di video o i video esperienziali o per i vlog. Questo qui è pratico ed è necessario se avete la necessità di riprendere qualcun altro oppure di fare dei video abbastanza un po' più professionali e volete avere una maggiore stabilità con la camera, allora vi consiglio un gimbal altrimenti allora andate su altro oppure se volete farla con i telefoni questi qui secondo me sono gli accessori più validi. Quindi ragazzi questi qui sono gli accessori che utilizzo quotidianamente sono quelli che vi posso anche consigliare se volete iniziare a fare qualche video a fare qualche vlog qualche tipo di video recensione del genere. Se poi avete qualsiasi altra domanda dubbi o informazioni ragazzi non esitate a chiedermelo qui sotto nei commenti oppure lo sapete mi potete sempre contattare su tutti gli altri canali social. Detto questo ragazzi noi ci vediamo la prossima video recensione da Dammit Gadget Pier Giorgio buona giornata a tutti e grazie ancora. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti.